E durante la notte l'annuncio del 19.5. Siete soddisfatti? Bene, allora oggi avete l'occasione di provarlo. Se invece non vi interessa, avete la possibilità di fare 21, 18, 15, 12, 9, 6, 3 thruster chest to bar pull up con 45 o 30 kg. Il thruster ovviamente, non il chest to bar. Per quanto riguarda tutto il resto, scalature e quant'altro, abbiamo la grafica qui di fianco. Buon weekend a tutti, buon 19.5 e naturalmente a lunedì.